Buongiorno a tutti, eccomi qua di nuovo con un altro euro, il primo ve l'ho fatto vedere e anche il secondo, un bel euro sempre tedesco, molto lungoloso oggi, ok alla prossima, un bel suono qua, ecco un altro bel euro, bene, un altro suono qua, il suono monetario diciamo, ci potrebbe essere una bella moneta qua, e anche probabilmente qualche 2 euro, è uscita fuori, vediamo, eccola, 20 centesimi, bene bene, oggi andrà benissimo, un altro suono qua, andiamo, cos'è, cos'è, sembra 2 euro, 2 euro ma, e se ho un gettone, no, 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 sembra 2 euro, molto profondo, almeno 20-25 centimetri, va bene, nel dubbio la pulirò, e vedremo cosa sarà, sempre 2 euro, poi vediamo, oggi, non ho portato il mio 150, mi ho portato quello di Andrea, il 250, fino adesso, si sta comportando abbastanza bene, ogni tanto qualche passo segnale, ma, tutto nella norma, qua, la spiaggia è lunga, il tempo è un po' rivoloso, oggi, il mare è abbastanza calmo, dai, vediamo, qualcosa uscirà di buono, un po' di euro li abbiamo trovati, qualche 2 euro, va bene, alla prossima buca, vediamo un po', ecco, un altro dolce suono, vediamo, non è neanche tanto profondo, è uscita la monetina, vediamo, che roba è, e e eccola, 10 centesimi, va bene, tutto fa brodo, oggi, sta andando, abbastanza bene, altri 10, va bene, 10 a 10, 20, fa tutto, tutto buono, ok, alla prossima, un altro, bel suono qua, vediamo cosa, può essere, dal suono, ecco qua, eccola, che dal suono, è un euro, un bel euro, eh, oggi, va bene, poi, alla fine, vedremo tutto il ritrovamento, che ho fatto, nella mattinata, ok, alla prossima, ogni tanto, sentiamo questo bel suono, che a noi piace tanto, a noi spazzolatori, diciamo, è un bel suono, eh, era un bel suono, ecco, è uscita, vediamo, vediamo un po', eccola, una bella 50, pulita pulita, questa, eh, risparmiamo anche, la fatica di pulirlo, ok, continuo, un'altra buchetta, altro giro, altro giro, altra moneta, e altri 20 centesimi, 50 centesimi, ma è bene, devo arrivare, devo cercare di arrivare, là in fondo, ma, vediamo un po', di farcela, continuiamo, vediamo, altro suono, bene, 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 altri 50 centesimi, guardate che mare, piaggia deserta, non c'è nessuno, ok, andiamo avanti, allora, qua, 5 centesimi, 5 centesimi, però, qua, mi suona, vediamo un po', cosa può, può uscire, può uscire di buono, speriamo, non c'è nessuno, ecco qua, 10, 5, 15 centesimi, vicino, vicino, eh, bene, bene, qua, qualcosa, può uscire ancora di buono, speriamo, almeno, di 2 euro, altra, bucchetta, vediamo, ecco qua, 10 centesimi, vecchissimi, bene, come dicevo prima, sto, per arrivare ai 100 scalini, che portano, dalla spiaggia, al paese, diciamo, ok, continuiamo, a dopo, ecco qua, anche oggi, non manca, la moneta, sopra, sopra, vediamo, 20 centesimi, l'ho proprio, beccata a vista, va bene, andiamo avanti, ecco, un'altra, eccola qua, questo è, un'altra 20, questa è l'amica di quella di prima, va bene, bene, a pochi centimetri, molto verde, un bel euro, un bel euro, bene, bene, qualcosa esce, dai, ok, alla prossima, eccolo, finalmente, un'altra 2 euro, un'altra 2 euro, bene, bene, va bene, un altro po', e arriviamo al punto stabilito, e poi, retromarcio, un'altra buca, vediamo, un anellino, non è, né oro, né argento, vicino, c'è anche un bel diamante, chi può essere interessato, mi può contattare, ok, carina, dai, che bel suono, che bel suono, vediamo, non è profonda, almeno sempre che non è profonda, proviamo con il ping-pong, eccola, un euro, un euro, benissimo, bravo, al carrezzino di Andrea, bravo, sta benissimo, e ringrazio, anche gli amici che gli hanno regalato, ecco, un'altra monetina verde, 10 centesima, sono arrivato, un altro pochettino, arriviamo a 100 scalini, ok, il mare è ancora calmo, un po' svoloso, ho già messo anche acqua, ma non so, bene, io continuo, a dopo, un'altra buca, un po' profondina, diciamo, profonda, vediamo, ecco, un altro bell'euro, non preoccupateci, penso io a pulirti, anche se sei sporco, dai, bene bene, dai, andiamo avanti, speriamo che ne escono tanti questi euro così, ok, ecco, mi è arrivato, finalmente, ai 100 scalini, qua sopra, passa anche la ferrovia, e poi, forse, dopra, diciamo, al paesino, ah, questa è sempre una frazione di Vico da carcare, e qua c'è il mare, qua, quante volte da piccolo che andavamo con gli amici, a piedi da Vico, quante volte, venivamo, proprio qua, va bene, poi, una volta arrivato a casa, vi farò vedere tutto quello che ho trovato, porcherie, euro, tutto, insomma, va bene, a dopo, e un saluto a tutti i miei amici di lavoro, Antonio Lamalva, Nazario Sparadio, Michele, Pasquale, tutti quanti, bene, eccomi a casa, oggi, non mi posso lamentare, eh, prima di tutto, facciamo vedere, la sporcizia qua, tappi, tappi, bottigliette, ramazzotti, bambola, bambola, la macchina di Venom, questa, è per Andrea, carina, poi, accendini, strappi, mettiamo dietro tappi, ecco qua, un po' di, medaglietta, il gettone della doccia, e poi, ecco qua, vediamo quanto abbiamo fatto, tutti euro, due euro, cinquanta, oggi è andata benissimo, oggi non ho lavorato, e abbiamo guadagnato la giornata diversamente, va bene, il totale, 29 euro, e 30, bene, io vi saluto, ciao a tutti, e un saluto al mio amico Antonio Il Drugo, ciao Antonio, ciao, ciao, Grazie a tutti.